Verissimo 2022-2023 29 gennaio 2023-22 e 59 Romina Pierdomenico Quanti pregiudizi, che colpa ne ho se mi sono innamorata di Ezio Greggio, a Verissimo, lo sfogo di Romina Pierdomenico In studio anche il suo compagno Ezio Greggio, che l'ha baciata teneramente Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022-2023 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti